Se colleghi spesso il tuo telefono al computer, in questo video ti mostro tre modi per collegarlo ed avere il pieno controllo del tuo dispositivo direttamente sul computer. Allora, il primo metodo è il mio preferito anche perché ha una rapidità di esecuzione e controllo davvero pazzesca. Per prima cosa c'è da abilitare la modalità sviluppatore, quindi andiamo in Impostazioni e poi su Infosistema dove troverete la voce versione MIUI e qui premere ripetutamente per sette volte fino ad abilitare la modalità sviluppatore. Fatto questo torniamo in Impostazioni e cerchiamo Opzioni sviluppatore e una volta qui scorrere fino ad abilitare il debug USB, attendere questi cinque secondi e poi premere OK. A questo punto andiamo sul nostro computer, colleghiamoci su questo sito che troverete in descrizione e scaricare questo pacchetto Android SDK Platform. Dopodiché andiamo su quest'altro sito a scaricare quest'altro pacchetto scegliendo il vostro sistema operativo disponibile, vediamo che è disponibile sia per Linux, Windows e Mac e poi se avete anche un sistema A32 o A64B. Bene, una volta scaricati i pacchetti andiamo a scompattarli dove avremo queste due cartelle. Andiamo ad aprire la cartella Scripi e da qui andiamo a selezionare e copiare tutti i file per poi andare a incollarli all'interno dell'altra cartella Platform, sostituendo tutti i file. Fatto questo andiamo a collegare anche il nostro dispositivo tramite cavetto USB. Dopodiché sul nostro computer andiamo a fare doppio clic sul setup di Scripi, ed è quest'icona qui e vedremo apparire sullo schermo del nostro dispositivo questa notifica. Andiamo ad accettare il consenso al debug USB, attendere qualche secondo e vedremo, ecco qui, apparire il nostro telefono sul computer. E ora abbiamo il pieno controllo del nostro dispositivo e possiamo andare a fare qualsiasi cosa, scaricare o disinstallare applicazioni, guardare YouTube, eliminare i file. Insomma, possiamo fare tutto ciò che facciamo solitamente con il nostro telefono. E devo dire che ha una rapidità di risposta incredibile. Infatti io uso spesso questo metodo anche perché una volta fatta la prima configurazione puoi collegarsi e un gioco da ragazzi. Il secondo metodo è quello predefinito di Windows che si chiama collegamento al telefono. Andiamo ad aprirlo. Allora, ora io qui sto utilizzando Windows 10 e su questo sistema operativo è possibile collegare solamente Android. Invece se avete Windows 11 potete collegare anche un iPhone se ce l'avete. Clicchiamo su Android, dopodiché andiamo a fare accesso al nostro account di Microsoft. E una volta fatto accesso, qui avremo il nostro codice QR. A questo punto andiamo a prendere il nostro dispositivo e andiamo a scaricare l'applicazione collegamento a Windows. Una volta aperta l'applicazione, qui troverete la voce Accedi con il codice QR. E andiamo a inquadrare il codice sullo schermo del nostro PC, poi clicca su Continua e andiamo a inserire il codice che ci appare sullo schermo, qui sul dispositivo. Dopodiché inserire la password del nostro account Microsoft, se ce lo chiede. E poi qui ci chiederà di consentirli tutti i collegamenti, quindi l'accesso alle chiamate, messaggi, notifiche, contatti, alle foto. Andiamo ad accettarle tutte. E una volta che è tutto pronto, finita la configurazione. Cliccare su Conferma ed è fatto. Adesso avete il pieno accesso al vostro dispositivo e potete controllarlo direttamente dal computer. Il terzo metodo funziona solamente con dispositivi Samsung e andremo a farlo tramite questa applicazione Samsung Flow, creata proprio dalla Samsung. Andiamo a scaricarla. Dopodiché andiamo sul nostro computer, apriamo il Microsoft Store e scarichiamo la stessa applicazione, Samsung Flow, che è disponibile. Una volta scaricata e aperta, clicchiamo su Avvia. E poi apriamo l'applicazione anche dal nostro dispositivo e poi andiamo a consentirli di collegarsi ai dispositivi nelle vicinanze. Vedremo apparire il nostro dispositivo sullo schermo, facciamo clic per collegarci. Ovviamente i dispositivi devono essere collegati alla stessa rete. Andiamo a consentirli l'accesso alle chiamate. E poi se volete abilitare l'accesso anche alle notifiche, vi basta cliccare su Vai in Impostazioni e abilitare l'applicazione Samsung Flow. Fatto questo, clicchiamo su Smart View, premere Avvia ora sul telefono e andrà a proiettare il nostro dispositivo sul computer. E anche qui avremo il pieno controllo, quindi l'accesso completo al nostro dispositivo, che possiamo controllare senza problemi direttamente dal dispositivo. Devo dire che anche questa applicazione è davvero molto molto interessante, risponde molto bene ed è veramente rapida ed è anche abbastanza leggera, molto fluida, non dà fastidio, non appesantisce il computer. Non sembra neanche di averla in esecuzione. Bene ragazzi, con questo è tutto. Lasciate un bel like se vi è piaciuto il video e se vi va iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video. Alla prossima, ciao! Grazie a tutti!